Che le ciliegie sono mature, questo lo so, invece tu sei giovane e acerba come i tuoi no, ma forse il sole sulle tue lacrime si poserà, e la tua bocca giorno per giorno maturerà, forse aprile, forse maggio avrà, un pochino di coraggio mi senti bacerà, forse aprile, forse maggio verrà, però per l'ultimo assaggio dei baci tuoi. Finalmente l'ha capito cos'è lo spirito di corpo, gliel'ho fatto capire io, un servizio fotografico come questo vale più di mille interviste, pubblicità ci vuole, pubblicità, foto, scattate, foto, continuate. Invece tu sei giovane e acerba come i tuoi no, forse aprile, forse amaggio avrà, un pochino di coraggio mi bacerà, forse aprile, forse amaggio avrà, però per l'ultimo assaggio dei baci tuoi. Prendi bene, bella bimba. Grazie. Lo chiedotica mi bene. Eh, è mio amico solo lì. Me lo presenti? Dai, dopo la danza. E la tua bocca è l'opera, per l'ultimo assaggio di maturera.